Musica Amici di tutti i candidati, benvenuti al terzo e ultimo appuntamento nei Faccia a Faccia per l'elezione del 4 marzo. Questa sera abbiamo ospiti il magnifico rettore Gian Maria Palmieri, candidato al Senato della Repubblica al Collegio Maggioritario. Benvenuto per Liberi Uguali. Abbiamo l'avvocato Nunzio Luciano, candidato al Senato della Repubblica alla circoscrizione proporzionale per Forza Italia. La Boldrini ha detto che Forza Italia e PD stanno facendo una campagna elettorale con i guanti bianchi. Ma diciamo che si prospetta uno scenario che può presentare il terreno fertile per un accordo dopo le elezioni. Effettivamente i sospetti di un nuovo inciuscio, di un nuovo nazareno sono fondati. Dunque noi come Liberi Uguali siamo indisponibili per un'alleanza con Berlusconi. Invece voi immaginate a qualche giorno dall'esito del voto di poter avere lo sprint finale per vincere queste elezioni? La legge premia la coalizione. Noi siamo una coalizione compatta, coesa. Vogliamo arrivare al 40% che ci consente di governare. Se arriveremo al 40% non avremo bisogno di sentire né contattare gli altri partiti. Avremo presto l'indicazione di un nostro leader. Arriverà questa indicazione prima del 4 marzo? Io sono convinto di sì. Sarà Tajani? Sono convinto di sì. Io spero che sia Antonio Tajani che conosco molto bene. È una persona molto valida, ha un ruolo in Europa, ha un ruolo importante e potrebbe portare veramente l'Italia in Europa con più forza e con più determinazione. Come giudica le parole di Juncker che ieri hanno mandato un po' in tilt le borse italiane? Penso che ci sia un'esagerazione. A volte il mercato reagisce male a queste esagerazioni, Juncker se noi raggiungeremo il 40% sarà molto più tranquillo anche lui. Senta, violenza politica a pochi giorni dal voto. Ci sono delle situazioni che non si vedevano dagli anni 70 in Italia. Come giudica i fatti di Torino? I fatti di Torino sono assolutamente censurabili. Noi siamo contrari ad ogni violenza, soprattutto durante una campagna elettorale, che deve essere all'insegna della dialettica politica, ma non deve mai trascendere nella violenza politica. Naturalmente una forza come Liberi Uguali è in prima linea da questo punto di vista e condanniamo ogni episodio di violenza rispetto a una campagna elettorale che deve essere libera, deve essere in grado di consentire ai candidati di esprimere liberamente le proprie idee. A volte gli antifascisti si ammantano di questo titolo ma poi sono loro i primi violenti? Ma la violenza è da condannare da qualunque parte provenga. Ci sono violenti estremisti di destra e di sinistra. Noi siamo antifascisti ma non siamo certo avvocati d'ufficio di violenti che agitassero bandiere estremiste di sinistra. Senta, se Palmieri dovesse andare alla maggioranza in Parlamento la tasserebbe con una patrimoniale? Io auguro a Palmieri di concorrere anche lui e quindi di poter anche lui vincere l'elezione, anche se nell'ultima dichiarazione che ho sentito il magnifico rettore diceva che avrebbero preso il 30%, sarei curioso di sapere se ancora convinto di questo, mi tasserebbe con una patrimoniale. Io dico solo che le tasse vanno equamente distribuite e che dobbiamo aumentare la platea di coloro che pagano le tasse per consentire appunto anche di abbassarle queste famose... Equamente significa non flat tax? Ci sono tanti tipi di flat tax, bisogna capire anche questo, c'è anche una flat tax di tipo progressivo che esonera in qualche modo le categorie più basse, quindi su questo è stata mondata una polemica, a mio avviso una polemica inutile, secondo me la tassazione deve scendere, deve scendere in maniera adeguata, poi non bisogna tassare indiscriminatamente anche i maggiori produttori di reddito, non ci dobbiamo dimenticare che chi produce grossi redditi genera anche grande occupazione. Magnifico, conferma, vuole tassare... Assolutamente, ho già risposto su questo argomento nell'intervista che mi fece faccia a faccia, il tema della patrimoniale è un tema ideologico, viene tirato in ballo in maniera intelligente ma in maniera anche furba, io non cado in questo tranello, il tema della patrimoniale in Molise riguarderebbe forse 50-70 persone, non è nell'agenda di questa regione, io non sono favorevole a una tassa patrimoniale se non per i grandissimi patrimoni, in questa terra purtroppo i patrimoni si sono assotticati, quindi il tema vero è quello di ridare vigore al principio di progressività fiscale garantito dall'articolo 53 della Costituzione, le proposte di Flat Tax su questo territorio determinerebbero una necessità di intervenire sui trasferimenti agli enti locali per coprire con 70 miliardi di euro l'anno il buco nelle finanze pubbliche che la Flat Tax determinerebbe inevitabilmente. La Flat Tax aiuterebbe i ricchi, in primis Silvio Berlusconi che passerebbe a un'aliquota del 25%, non è questa la nostra linea. Senta, i 5 Stelle hanno sbagliato molte candidature sul maggioritario, oggi c'è un altro candidato che viene accusato di riciclaggio. Ma io non voglio fare il difensore d'ufficio né dei 5 Stelle né di Forza Italia né del Partito Democratico o di Liberi Uguali, sono tantissimi candidati, ogni forza politica può anche sbagliare le candidature, quindi non mi straccio le vesti, dico che nessuno si può ergere a giudice rispetto alle candidature degli altri, poi se ci sono delle mele marce chiaramente si assume la responsabilità politica. Oggi leggiamo questa notizia sul Corriere della Sera, qualche giorno fa la Gabanelli ha messo gli impresentabili, tra cui anche Michele Iorio, che è il suo candidato in tandem sul maggioritario. Guardi, io sono un liberista e quindi penso che uno viene condannato nel momento in cui la sentenza passa in giudicato. Allora, se vogliamo fare demagogia e populismo su queste cose, allora troveremo veramente pochi amministratori veramente indenni da un avviso di garanzia sull'abuso d'ufficio. Allora, questo non ci appartiene, io vengo da una scuola liberale, io ritengo che quando uno viene condannato e la legge poi gli impedisce di candidarsi, allora va giudicato. Però ai perbenisti, a coloro che si mettono la maglietta di persone per bene e fanno campagna denigratoria contro tutti, io questo non l'accetto perché è un modo di fare politica che non mi appartiene, voglio fare politica sui programmi, sulle idee e sulle proposte. Poi saranno gli elettori a giudicare. Senta, oggi Di Pietro clamorosamente è aperto alla candidatura di Enzo Di Giacomo. Di Pietro ha capito che il centro-destra vince, con Enzo Di Giacomo valente magistrato, ma magistrato diverso. Enzo è per la separazione delle carriere, Enzo ha un grosso progetto anche di riforma, lo posso dire, della giustizia civile, che è un male per l'Italia perché sappiamo che cosa significa avere processi lenti, non attrarre i grossi investitori stranieri. Penso che Di Pietro guardi lungo e mi auguro che Di Pietro possa ripensare anche un po' ai suoi trascorsi e perché no? Votare lo schieramento di centro-destra alle regionali. L'Università sta a fare da adesso. Aumenterebbe le nostre possibilità di vittoria. Come giudica questa situazione proprio mentre l'Ulivo 2.0 incorronerà il suo candidato presidente in queste ore? L'Ulivo 2.0 va avanti per la sua strada. Certo sarebbe singolare vedere Antonio Di Pietro sbarcare nel centro-destra. Ho letto comunque le dichiarazioni di Enzo Di Giacomo, che è un magistrato che io stimo. Mi sembrava che lui avesse ritirato la propria disponibilità. Comunque sarebbe uno scenario veramente singolare, diciamo di un grande inciuscio addirittura di Pietro che va col centro-destra. Però bisogna essere pronti a tutto. Io non ci credo per la verità. Quanto all'Ulivo 2.0 è una forza che aggrega diverse componenti, ha un progetto ambizioso, un progetto di autonomia e di indipendenza dai poteri forti di questa regione. Lei voterà? Dove? All'Assemblea di... Assolutamente sì. Ha già in mente il nome che metterà nella scheda? Ma sarei molto contento di poter votare per Roberto Ruta. Come giudica questa idea di Roberto Ruta che esce di fatto dal Partito Democratico e da vita all'Ulivo 2.0 in contrasto col PD di Frattura? Roberto è un avvocato, una buona candidatura. Devo dire a me Roberto non dispiace. Certo non avere uno schieramento alle spalle significa inevitabilmente andare incontro a una possibile sconvitta. Comprendo però le sue ragioni, comprendo le sue delusioni e devo dire anche come uomo di centro-destra e rappresentante di Forza Italia ne sono anche soddisfatto perché in qualche modo voglio dire un centro-sinistra diviso rende il centro-destra inevitabilmente più forte. Quando ha Di Pedro, Di Pedro non penso che scenderà anch'io mai nel centro-destra però potrebbe rendersi conto di quanto sia frazionato il centro-sinistra e rimanere fuori dai giochi della politica e perché no votare lui personalmente per un candidato obiettivamente più forte. Io spesso ho votato il candidato, non ho votato lo schieramento politico perché a me piace vedere le qualità delle persone e decidere anche sulle qualità delle persone. E la qualità di Frattura dopo cinque anni di governo? A Frattura penso che sia stato purtroppo una persona che ha lavorato molto, devo dire questo, però secondo me non ha empatia con la gente per cui il territorio l'ha sentito distante e oggi paga soprattutto questa distanza che lui non è stato in grado di colmare. Senta Magnifico, il tema dell'immigrazione ha caratterizzato tutta la campagna elettorale. Siamo usciti come una nazione che non è più in grado di accogliere, dove l'odio e il razzismo sta diventando una caratteristica. È preoccupato? Molto preoccupato, sono molto preoccupato per esempio che una forza di centro-destra come Forza Italia sia alleata con la Lega, la cui matrice e la cui storia io conosco benissimo, essendo un uomo lisano acquisito ma un uomo del sud. Ascoltiamo, abbiamo ascoltato per anni gli attacchi violentissimi venati di razzismo da parte di Salvini, della Lega Nord e della Lega Lombarda e mi provoca tristezza che questa forza politica così ideologicamente violenta nei confronti degli immigrati possa allearsi col centro-destra di Berlusconi. Detto questo, io penso che il tema dell'immigrazione possa costituire anche una risorsa per il Paese perché una gestione più armonica, più compatibile con le istanze giuste della popolazione dei nostri cittadini possa consentire di governare l'immigrazione rendendola per esempio una possibilità per alcuni centri. Io ricordo benissimo e apprezzato moltissimo l'atteggiamento dei cittadini di Pabbottoni che hanno protestato rispetto a un spostamento di imperio degli immigrati che si erano ben integrati su quel territorio. Penso che ciascun uomo dotato di attaccamento ai valori di solidarietà debba guardare al fenomeno dell'immigrazione con grande senso di responsabilità. Non temete che Salvini possa prendere un voto di più del vostro partito e spostare l'asse di governo se dovesse vincere le elezioni troppo a destra? Io sono convinto che Salvini prenderà molti voti di meno rispetto a Forza Italia perché Forza Italia è radicata più sul territorio. Quando al fenomeno dell'immigrazione noi abbiamo un programma che dice che i flussi di immigrazione vanno gestiti anche nei Paesi di origine, noi là dobbiamo investire. Lo diceva sempre e lo dice e lo continua a dire Antonio Tajani, lo continua a dire Forza Italia è vero, come dice il Rettore, che possono costituire una risorsa. Io ne sono convinto anch'io, però quando poi iniziano ad essere veramente tanti e non ci sono sbocchi di lavoro per loro significa portarli qui a non fare nulla e questo non è più possibile. Allora dobbiamo essere in grado, con l'Europa soprattutto, con la grande forza che avremo in Europa soprattutto se Antonio Tajani diventerà Presidente del Consiglio dovremmo essere in grado di gestire i flussi. Dobbiamo investire in quelle nazioni, così come dicono molti parlamentari europei per evitare che questi fenomeni così massicci di immigrazione investano in nostro Paese. Anche perché molto spesso questi fenomeni portano anche a volte persone che vengono in Italia e non hanno niente a fare e purtroppo iniziano a delinquere. Noi questo non lo possiamo consentire. Senta, se dovesse diventare senatore, quale sarebbe il primo provvedimento per i Molise che vuole rendere legge? Allora il primo provvedimento per i Molise che vuole rendere legge, io penso che noi abbiamo un problema importante che riguarda l'autonomia della nostra Corte d'Appello, l'autonomia del nostro sistema giustizia. Bene, uno dei provvedimenti che sicuramente farei e lo farei insieme a molti parlamentari siccome c'è il problema della giustizia civile, accelerare i tempi del processo civile. E lei, magnifico? Ma io vorrei contribuire a rovesciare la prospettiva che privilegia i territori del centro-nord del nostro paese rispetto ai fondi europei. Io voglio ricordare che abbiamo, come il paese d'Italia, beneficiato del Quantitative Easing, un programma straordinario della Banca Centrale Europea che ha iniettato 1 miliardo e 600 milioni di euro nei paesi europei, nelle banche italiane. In Molise non è arrivato nulla. Direi che anche nella responsabilità di un senatore, di un gruppo parlamentare, vigilare affinché le risorse europee vengano equamente distribuite sul territorio. Questo sarebbe il mio primo impegno. Ha la possibilità di fare una domanda al suo avversario politico? Ma io ho letto con soddisfazione le dichiarazioni di Nunzio Luciano sul rilevo prevalente che deve avere la sanità pubblica in Molise. Come pensa possa essere credibile questa sua posizione con due campioni della sanità privata che schierate, che sono due persone degnissime, Mario Petracupa e Antonio Daimmo, Neuromed e Cattolica? Io penso che laddove non arriva la sanità pubblica debba intervenire la sanità privata, con i soldi pubblici naturalmente. Noi abbiamo degli esempi in Italia di campioni di sanità privata, che sono lo IEO. Io ad esempio in Cassa Forense noi abbiamo una convenzione con lo IEO e molti avvocati del Molise vengono e utilizzano questo tipo di struttura. Laddove non arriva il pubblico dobbiamo metterlo in competizione col privato e se il privato è il meglio del pubblico perché il pubblico non ci riesce ad arrivare, allora io penso sia giusta la competizione. Poi è chiaro che dobbiamo provare sempre a valorizzare il pubblico laddove è possibile, ma laddove il pubblico non arriva è giusto che ci sia competizione tra il privato e il pubblico e dobbiamo in questo modo renderemo soprattutto un servizio ai cittadini anche perché lo facciamo con i soldi pubblici. E il suo turno per fare una domanda al Magnifico Rettore? Io stimo molto il Magnifico Rettore e penso che il Magnifico Rettore sia una persona di grande qualità. Intanto gli voglio dare la mano perché mi sembra giusto che tra avversari che si rispettano e tra colleghi che si rispettano gli voglio dare. Io gli voglio fare una domanda diciamo più, a parte il fatto che penso che per quanto riguarda il discorso della BCE e dei fondi del quantitative easing un senatore non possa avere purtroppo, ahimè, nessun effetto magari, casomai lo potessimo fare questo. Magari un colpo di telefono a Draghi. A Draghi, sì, sì, infatti questo sarebbe molto più facile. No, la domanda che voglio fare è se lui è ancora convinto di prendere il 30%. Sono convintissimo che la nostra battaglia sarà coronata da successo, le prospettive sono assolutamente positive, io corro per vincere una battaglia politica e la vinceremo sicuramente. Senta, se non sapesse che Nunzio Luciano è candidato per Forza Italia, come lo convincerebbe a darle il voto? Ma io lo convincerei, come dire, valutando la storia mia, il mio impegno e le proposte che mettiamo in campo. Lo conosco come una persona responsabile, una persona, come dire, attaccata ai valori e mi sorprende che lui possa, come dire, prestare la sua immagine, una storia che io non condivido. Senta, se non fosse candidato lei, chi voterebbe fra gli altri candidati del Senato? Se non fossi candidato io, tra gli altri candidati del Senato, ci dovrei pensare, ecco, le dico questo, ci dovrei obiettivamente pensare perché penso che dovrei fare una scelta sulla qualità della persona. Certamente posso fare, io ho una domanda al Rettore, una seconda domanda, visto che lui ha espresso, no, io penso che se dovessi votare il Rettore, se dovessi dargli un consiglio per il lavoro egregio che sta svolgendo, gli direi che insieme noi potremmo aumentare, quello che sto provando a fare io all'interno dell'avvocatura, il livello qualitativo della nostra classe dirigente, della nostra classe politica, dei nostri studenti universitari, perché c'è un problema di formazione, questo problema riguarda l'intero sistema paese e penso che insieme noi potremmo svolgere un ruolo importante in quest'ottica. Naturalmente tra persone per bene e persone capaci ci si intende, io sono per l'università e la scuola pubblica ma penso che potremo comunque trovare un'intesa. Se vuole una seconda chance a questo punto, di fare una seconda domanda? No, è la seconda domanda che faccio annunzio Luciano, legata alla sua funzione di avvocato e in qualche modo abbiamo avuto stamattina un incontro con l'ordine degli avvocati molisani, come vede le prospettive dell'avvocatura molisana? Prospettive difficili perché siamo tanti avvocati, troppo avvocati e anche qui ritorno al discorso di prima, noi dobbiamo aumentare il livello qualitativo degli avvocati perché nei prossimi anni c'è un rapporto della Commissione europea che si occupa di formazione che dice che ci sarà necessità di avere avvocati di tipo diverso e avvocati di tipo diverso che non sono più gli avvocati tradizionali che vanno in tribunali ma che sono coloro che assistono le aziende, coloro che sono vicini alle imprese. La prospettiva è che stiamo investendo moltissimi soldi nel campo del welfare attivo per proprio aumentare il livello qualitativo dell'avvocatura italiana. Bene, questa volta la stretta di mano ve la chiedo io. Bocca al lupo. Grazie, grazie, bocca al lupo. Un saluto ai nostri amici in rete con l'ultimo appuntamento con i faccia a faccia di tutti i candidati. Grazie e buon voto il 4 marzo.